Il vice sindaco di Arezzo Lucia Tanti, candidata nel listino bloccato per noi, moderati che però non è riuscito a raggiungere il 3%, come si commenta questo dato? Che in 33 giorni non si fa un partito ma probabilmente si comincia una strada. Quando mi è stato proposto di fare questa sfida era per dare un orizzonte politico alle liste civiche, ai moderati, a quelli che in questi anni hanno trovato casa attraverso le liste civiche dei territori ma a livello nazionale non avevano una identità. Evidentemente ci abbiamo pensato un po' tardi, abbiamo fatto una scelta di coraggio perché potevamo dire che tardi ci accasiamo come qualcuno ha fatto da qualche parte e invece abbiamo detto proviamoci, vediamo come va a finire. In realtà non è andata a finire bene perché il 3% non l'abbiamo raggiunto e peraltro neanche di poco, quindi siamo abbastanza staccati anche alla luce di un'affluenza molto bassa che evidentemente non ha aiutato. Detto questo la Toscana si è posizionata molto bene, nel molto male, il mio primo collegio in Toscana, la città di Arezzo, ha raddoppiato il voto nazionale. Certo sono piccoli numeri ma l'idea non era quella di centrare l'obiettivo subito, si era bene, ma l'idea è quella di cominciare una strada e quella l'abbiamo cominciata. Ecco intanto a livello nazionale ha vinto il centro-destra, insomma a che futuro si ha? Io sono molto contenta di questa vittoria, sono molto contenta che Giorgia Meloni abbia fatto un risultato strabiliante, devo dire, perché tra l'altro questo insegna che in 5 anni da 4 si può arrivare al 26, quindi credo che sia anche un esempio per chi in questo momento è un pochettino più dietro, noi siamo stabilmente nel centro-destra, portiamo una sensibilità che credo a questo punto al governo serve, e quindi siamo tutti modestamente nei nostri limiti a disposizione per dare quel contributo che forse servirà o forse no, ma noi comunque lo daremo lo stesso.